Eccoci qua, sono Maurizio Poli, educatore finanziario, novembre 2024, il mese dell'educazione finanziaria. Abbiamo organizzato a Cremona, presso Palazzo Cattaneo, via Oscasali 3, un convegno Arte e Finanza. Siamo ospiti dell'Università Popolare di Cremona, ci sarà il direttore di Mondo Padano, Alessandro Rossi, io, Giusy Biondelli, educatrice finanziaria, e due esperti d'arte che ci parleranno dell'arte e la finanza, questi due mondi che si incontrano. Quindi vi aspettiamo venerdì 8 novembre, ore 18.30, Palazzo Cattaneo, a Cremona. Vi aspettiamo, mese dell'educazione finanziaria, noi ci siamo.